Unità di eleganza, spaziosità e funzionalità. Sono questi i nuovi parametri definiti da BMW. La Serie 5 Gran Turismo è la prima vettura del mondo a combinare le caratteristiche di una berlina di rappresentanza, di un moderno sport activity vehicle e di una classica Gran Turismo, interpretandoli in modo completamente nuovo. Sofisticata, lussuosa e versatile, tutto questo crea un'unità armonica. Da molti anni la Casa di Monaco influenza il mondo automobilistico mondiale, presentando concetti automobilistici completamente nuovi, che vengono accolti con entusiasmo dal pubblico. La BMW Serie 5 Gran Turismo trasmette un'immagine autentica della mobilità moderna. Al centro del progetto vi erano le esigenze degli automobilisti, che si attendono spaziosità, apprezzano un ambiente esclusivo e sanno sfruttare i vantaggi offerti da interni versatili. La vettura rappresenta proprio un'automobile che soddisfa tutti questi criteri. Gli interni ad esempio combinano comfort di spazio, lusso personale ed una selezione raffinata dei materiali in un'esperienza primi. Sia nei sedili anteriori che posteriori, questa nuova interpretazione dello spazio trasmette immediatamente una sensazione di benessere e offre le premesse ideali per viaggiare rilassati. Inoltre è variabile separatamente anche l'inclinazione degli schienali. Come optional sono disponibili due sedili separati comfort con console centrale e comandi di regolazione elettrica nella zona posteriore. La combinazione di numerose qualità è stata completata dalla caratteristica sportività della marca. Come svela già il nome, il nuovo modello è stato creato per i grandi viaggi. Il piacere di guidare si manifesta però anche nella guida quotidiana. I risultati attuali della strategia di sviluppo BMW Efficient Dynamics hanno prodotto anche su questa macchina un rapporto insuperabile tra prestazioni di guida e consumo di carburante. La più moderna tecnica di propulsione con un motore a benzina 6 cilindri in linea sviluppato completamente ex novo, il primo rappresentante di una nuova generazione di motori adatta all'utilizzo in tutto il mondo e il nuovo cambio automatico a 8 rafforti montato per la prima volta in combinazione con motorizzazioni a 8 e a 6 cilindri consentono di realizzare dinamica, comfort ed efficienza ai massimi livelli.